Ben trovati a questa nuova puntata di Adconsum Informa, in studio con me Loredana Baldi di Adconsum Marche, ben trovata Loredana. Grazie. Oggi parliamo delle novità sui mutui prima casa, le novità previste ovviamente dalla legge di bilancio 2024. Allora, cosa prevede la nuova legge di bilancio rispetto ai mutui della prima casa? La nuova legge di bilancio ha rinnovato il finanziamento per il fondo prima casa. Praticamente di che cosa si tratta? È un fondo dello Stato che dà la possibilità di richiedere una garanzia dello Stato nel momento in cui si prende un mutuo in banca per l'acquisto della prima casa. Quindi sostanzialmente tutti i cittadini che appunto sono in procinto di stipulare un mutuo per l'acquisto della prima casa, che non siano in possesso di altri immobili sempre ad uso abitativo, anche all'estero, a meno che non li abbiano avuti per successione a causa di morte, possono richiedere l'intervento di questa garanzia a condizione che il mutuo non sia superiore a 250.000 euro. In questi casi lo Stato dà una garanzia del 50%, ma ci sono delle categorie che vengono definite categorie prioritarie che se hanno un'ISE che non supera 40.000 euro la garanzia passa all'80%. Queste categorie prioritarie sono i giovani under 36, quindi i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni, o le giovani coppie che siano conviventi oppure possono essere coniugate, che abbiano costituito un nucleo familiare da almeno due anni, i nuclei monogenitoriali, cioè dove c'è un genitore solo e ci siano figli minori, oppure chi è in affitto presso le case popolari. Queste categorie, se hanno un'ISE che non supera 40.000 euro, possono richiedere l'attivazione della garanzia che passa all'80%. Perché è stata fatta questa cosa? Questa cosa è stata fatta perché le banche, nel momento in cui si richiede un mutuo, oltre a chiedere la garanzia dell'ipoteca, che ovviamente è prevista in tutti i mutui immobiliari, però spesso richiedono ulteriori garanzie. Per esempio possono richiedere la fiduzione, cioè la garanzia, la firma di garanzia di un terzo, che può essere spesso un genitore o un familiare. In questo caso, invece, nel momento in cui viene attivata la garanzia dello Stato, le banche non possono chiedere ulteriori garanzie alla persona che in quel momento sta richiedendo il mutuo, al di là dell'ipoteca o di eventuali polizze assicurative. Però non possono chiedere, per esempio, l'intervento di un terzo nella stipula del mutuo. Quindi lo scopo è quello di agevolare le categorie che possono essere più in difficoltà, da un punto di vista economico, proprio nel momento in cui vanno a richiedere un mutuo in banca. Quindi proprio nell'accesso al prestito, diciamo, per dire in gergo meno tecnico. Sì, per agevolare ovviamente l'acquisto della prima casa. Ovviamente quello è il bene primario. C'è un ulteriore deroga, si può arrivare anche al 90% nel caso delle famiglie numerose. Siamo pochi in Italia, però... Esatto, esatto. Nel caso delle famiglie che abbiano 3, 4, 5 o più figli, si arriva al 90% di garanzia. Anche qui ci sono degli scaglioni ISEE da rispettare, però senza che diamo troppe informazioni, si può comunque consultare il sito della CONSAP, che è questa società dello Stato che poi alla fine gestisce questo fondo, oppure si possono chiedere informazioni alla propria banca. Per quanto riguarda l'immobile, che ovviamente parliamo di una coppia, vuole comprare una famiglia, vuole comprare, ci sono delle caratteristiche particolari? Sì, allora, naturalmente, come dicevamo prima, deve essere un immobile che viene adibito ad abitazione principale, quindi prima casa, ma soprattutto deve avere caratteristiche non di lusso, quindi per esempio sono escluse alcune categorie catastali che ricomprendono le ville o addirittura i castelli, insomma, no? Perché ovviamente il fondo deve servire ad acquistare una prima casa e non invece, insomma, un immobile di pregio e di lusso. Ecco, abbiamo acceso una lampadina, è possibile accedere a questo fondo? Come fare, ovviamente, per inoltrare la domanda? Come dicevo, il fondo è gestito dalla CONSAP, ma la domanda si presenta direttamente alla banca presso la quale si accende il mutuo. Sarà poi la banca che invia la richiesta alla CONSAP e la CONSAP a sua volta dà comunicazione dell'attivazione della garanzia direttamente alla banca stessa. Quindi si passa attraverso la banca, la quale poi ovviamente ci dovrà informare soprattutto se la garanzia dello Stato è stata concessa oppure no. Ecco, non ricordiamo a casa che non bisogna prendere questo fondo come un prestito a fondo perduto, ma ovviamente bisogna rispettare le scadenze e gli obblighi presi. Sì, perché il concetto è che si tratta di un fondo di garanzia, cioè che cosa significa? Questo fondo dà una garanzia alla banca per l'eventualità che il mutuatario non sia in grado di rispettare le scadenze delle rate, quindi non sia più in grado di pagare il mutuo. Quindi quando interviene il fondo? Il fondo interviene nel momento in cui il mutuatario non paga più il mutuo e ovviamente quindi restituisce, interviene la garanzia, restituisce alla banca la parte di finanziamento che non è stata pagata. Però poi il fondo si rivale sul mutuatario, quindi comunque quei soldi, per dirle in parole molto semplici, quel denaro che lo Stato ha versato alla banca poi lo richiederà al mutuatario. Quindi resta comunque obbligato il mutuatario che attiva il mutuo con la garanzia del fondo prima casa, resta comunque obbligato al pagamento dell'importo che ha preso in prestito. Questo voglio sottolinearlo perché è importante sapere quali sono i nostri diritti, ma come diciamo molto spesso è importante sapere anche quali sono i nostri doveri. Assolutamente, lo Stato interviene, può intervenire tramite questo fondo in una situazione particolare nell'immediato, ovviamente anche per tutelare la banca che eroga il mutuo, però poi bisogna rientrare e questo è me, bisogna farlo sempre, come diciamo spesso. Io ringrazio Loredana per essere stata con noi oggi, averci dato tutte queste informazioni, queste novità, grazie mille. Grazie a voi. E a voi do appuntamento alla nuova puntata di Adconsum Informa. Arrivederci.